il frattempo si sa guarda il barça incredibile ecco lui ma che parte c'erano bellissimo bellissimo benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo in un video particolare perchè come voi sapete come voi sapete è parecchio tempo che non registro un video assieme a la palla come voi sapete è parecchio tempo che non registro un video insieme a a lui a Claudio ragazzi oggi siamo in un nuovo episodio del fede contro cla e sul mio canale perchè lui ha un canale ma non ha un canale quindi cla di qualcosa ci hai usato questo canale però aveva tipo 28 iscritti quant'erano? può essere 28 iscritti vi ho messo il link in alcuni video però non abbiamo mai fatto video e nessuno mi si è ben curato meglio però da un certo punto di vista direi di sì vabbè lui utilizzerà Borussia e e non lo so ancora perchè dov'è la nazionale decente quindi dobbiamo fare una gara club e una gara nazionali io nazionali prendo il belgio adesso devo decidere che squadra prendere tu il club e io non c'era ma io prendo il celsi ancora un'ultima volta ragazzi sembra un po' la sfida con xander questa sembra un po' la sfida con xander questa ma non è così in realtà è un fede contro la ma perchè c'ho ancora stata la devo portare bello è che rosico che non manco posso praticare eh no perchè dovete sapere che tra noi i giocatori se ne sono andati ma è giusto così noi non siamo come t-rex 99 e quando rigori non ci sono segna noi se rigore non ce lo sbagliamo ecco caro t-rex cazzo cazzo che stiamo da stanford bridge ragazzi 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 in inglese infatti ragazzi in inglese infatti ragazzi in inglese infatti si comincia ah ce l'avevo pure ricorda la mia te la devi fare ragazzi si comincia si comincia ci pensi quindi ci pensiamo dove è? come l'hai vantuta sta come c'è? eh guarda è tutto quel coltato guarda i like Grande Fabregas Senza pallo Fai Diego Corri I piragni al culo Ho detto Fai Fabregas Non perde sta palla Mi volta C'ho dei problemi Con le palle Fabregas Regà No Il bello È che Tasta Uri a parà Sarà merda Con due Con due Eh lo so Che canto Eh Che dovevo palla Mamma Che cazzo ha fatto Ma tu dimmi perché Non ha bloccato quel pallone Tu dimmi perché Non ha bloccato quel pallone Sì però che cazzo Eh lo so che cazzo Non ha mai Il palle Grazie Eh Capito la palla Non è Non è Tutto Hai fatto La palla Non mi dà il cazzo Che cazzo di palla E Regà No mi raccomando Perché è andata là Poi non Che hai capito A chi ha passato la palla L'ha passata là Ah Oscar Ma riesce manco a fargli una busta Cioè I miei se la fanno da solo Sì aspetta Il senso che Devi andare per terra però Ti voglio far cadere Tu devi andare per terra Porca la Ma perché Un merce Tra tanti Che mi fa Ragazzi Non ho fatto un tiro Questo è un record Ti vede che sta partita La vinco Quando è così Ma tu sei un po' scoperto Tu sei un po' scoperto Te levo Te levo Meno male che finì il primo tempo Perché Ha fatto una cosa Non lo so ma poi Riprendo Perché ti fa così Se sbaglio io Poi devi sbagliare pure te Ha lasciato palla Pallo Pallo Non puoi metter giuratore In una linea Altra regola Ricordo Hazard ti prego Dove vai? Dove vai? Dove vai con il giocatore? Ancanto al palo E' sul 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 palo Nooooo Vai Remy Dai raga Pallo Nartro Dai Hazard Dai ragazzi Sì da qua giù Manco Gesù Cristo Ma lui gli segnerà Gli segnerà Perché dove vai? E' la patordia E' la patordia E' la patordia E' la patordia E' il pazzo E' il pazzo Hazard E' la madre che aveva un po' scoperto Hazard 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 Ma che contiene c'è Oddio Oddio E' un po' scoperto Ma dove guarda? Oddio Stare distratti Più da posto Ma dove guarda? Oddio Ma guarda Guarda il punto Ma Ma vaffanculo Sono scritta Viva l'ho scritta Ma vaffanculo Viva l'ho scritta Tu madre mi scritta Stronzo Mi fa scritta Tutte e due Ricordo Per esempio Posso mettere salà? No Vabbè Non mi ha provato così Però posso mettere anche oscurle Non c'ho l'esterno Dai Ho capito Ma se non c'ho quadrato C'ho salà Posso mettere il salà? No Esterno destro Che cazzo Ricà Ditemi nei commenti Guarda io Chi c'ho un po' Anche io Ma anche te la menti pure Grob Geutz Ma chi cazzo è? Si chiama Gross Groitz Non si può vedere Comunque ditemi nei commenti Se Mi piace sta regola Perché va cambiata Angolo Ragazzi Angolo Mamma mia Mi sciò proprio Va ancora No Era con la start La prima partita Vabbè Questa era meritata Non so perché ho giocato così male Era tanto Che non giocava così male Contro l'era Da quando usavi il totten Allora Adesso faremo nazionali Io belgio Come vi ho detto prima Mentre l'userà Allora Dio Allora Ragazzi Vi vorrei fare un video Su stagioni online Perché Adesso vi faccio vedere Un po' l'attacco dei bug Bene ragazzi Questo è l'attacco dei bug Con De Bruyne Lukaku E Pentekei Soprattutto Con Hazard E Shadley Su le fasce Naingolanda Per Tom & Company Per Tom Bella squadra E vi vado a vorrei usarla In un episodio di Stagioni online Dai Mandalo Mandalo Benissimo Vai benissimo Lukaku Benissimo Lukaku 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 Come tutti i fenomeni Come tutti i fenomeni Eccolo Christian Bentekei San Bagno Fa 1 a 0 E' lui E' lui ragazzi E' lui E' lui E' lui E' lui E' lui E' lui Bentekei Ci mancava Bentekei Faccio di ciò Dio Oddio Bentekei Porca la matto Non l'ha detto Non l'ha detto Mi sono fermato Compagni ragazzi Di fine si conclude Bentekei 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 Sbora Oddio Ho tirato benissimo Corri sbora Corri sbora Perché quanto odio Quando fanno così C'è il preso un croce Cioè Cioè Seriamente Mi sta dicendo Il preso un croce Sì Sì Un video poco vangato Vai via da qui No questo stop Indecente Per la tua vita Pagò il secondo Riga Intraverso Sì Ho detto Pagò il secondo Eden Hazard Lui che vuole Vendicare la sconfitta Del suo Chelsea 2 a 0 Io anticipo Su David Lewis Le domande Che ti fa Fare Ficc Vai ragazzi Questa è la squadra Che conosco Questo è il Chelsea Che volevo prima Oddio Oddio Era regolare Era regolare E' la regolare E' la classe Facevo sto collo Ragazzi Che stava Azione involontaria Ok Ma il didacchio Perché se volete un altro Episodio con il didacchio Ditelo No Sarà più E poi io dico Sempre Io dico sempre Io dico sempre Episodio Ma in realtà Video Perché ci sono episodi Bella Involontaria Anche questa Bello Quando uno gioca A FIFA così Involontariamente Vinci Involontariamente Infatti Chi dà che Involontariamente Fa le finte Involontari Perché ne sa Fa Luca Vente Vente Vai 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 Con l'aiuto Della terza Gamba Con deviazione Ti tengo Alves Che stava lì Per toccare il pallone Ma per No Non Per farlo E fare 3 a 0 3 a 0 Ragazzi Vai Eh già Nonostante La prima partita Abbastanza Dominata Con questo 3 a 0 Di passivo Claudio Sembra Subire una vera E propria Lezione di calcio Su un gioco FIFA Che a volte Non è sempre Molto giusto E a volte Anche in grado Di distruggere Delle amicizie Ma questo è un altro Discorso Comunque Questa partita È stata Stradominata Dal sottoscritto E il nostro Claudio Ha assolutamente Voglia di rivalza Signori Questa è la bella Questa è la bella Derby della Lanterna Io uso il Genoa Ma in realtà Tra le gruppi Ubrisco la Samp Adria di quello Che succede Ogni volta Che c'è Roma Saberà L'Olimpico Mentre lui Ha preso la Samp Perché giustamente Mi ha Criato nel tempo Quindi Cominciato Partito bene il Genoa Iago Falche Beh Un pallone Così a casa Andate dentro ragazzi Va bene Che partenza Mi ha preso 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 E vabbè Famo pure tu Famo pure tu Mi ha preso Mi ha preso Momenti di segno Puraro Ma perché Mi ha preso Che mai ero Cono Il dio Bergazio Il dio Di un gianzo Grande Burdissima Dai Ma io ti lo sto Gioco Guarda Guarda sto gioco E poi dici Devi un fallo Si mori Ma come pure in via Io non lo so Una quarta Nob Sai Mi ha preso Mi ha preso Mi ha preso Capito Capito Ma come si è fatto male Capito Cioè io Non lo so No una volta Due volte E so pure Mamma mega Si segnava Era La fiera Del bar Ma va Ancora Che portiere Il portiere Del secolo Guardate Non è possibile Non ho mai visto Una cosa del genere Io non ho parole più Cioè veramente Io veramente Non ce la posso fare Cioè Verretti Sei cagato Un sacco di cose Dici Vabbè Ma segno io No Perché Quando è il cazzo Di squadra Cioè Rosi Rega Rosi Oddio Però Subito Dietro Tu Mi dobbiamo Di scatto Che lui Mi importa Di vedere La macchina Dopo che Mi fa Manno 250 La Per Sì Che hai contato Il cuore del geno Se non segna Questi L'interno La sopra Non ci può farti Tutti Il giro Troppo Io Ti dico Sto mettendo Finire Così Non detto Che non Fede Per Rinne Se ne ammerda Quando i dettini Sargono Sarebbe Un minuto Quindi Se pur di sto Sare Che divietando Dietro C'è De Maiore Da qui Dice De Maiore C'è De Maiore Giusto No Beh Per Inde Si butta Da parte Posta Rega Ormai Che Fai Andate Sì Fai No Ho capito Per Inde Si deve Buttare Quella De Maiore C'era Io La Sanna Eh Lo so Lo so Venti Non so Ti hanno giocato Il tuo oio Lui E ho pure Attacco Lo tale Non stai avanti Dove hai il suo slide Oh Maravattita Questo non ci piave Questo Non ci piave Questo Non ci piave Io non c'ero No Questo Non ci piave Stai avanti Stai avanti Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Aspetta Fai vedere un attimo Di vedere il replay Aspetta Che vedi dietro La corza Di lui Aspetta Ma che è caduto Uno Aspetta No È buono È buono Sto Cugo Ma Bianca queste cose Non le ha mai fatte In vita Tu Non le ha mai fatte Non le ha mai fatte Io ho smentito Ha detto C'ha ragione Scusa Finisce una partita Equilibrata Ha vinto lui il derby Ragazzi Facciamo vedere Il nostro saluto Ragazzi Ilbra Ilbra 2 Allora Qua sembrava ancora Allora Partita equilibrata E tu Sì Una brutta partita Sì Anche lui Lui è un brutto Anche lui Perché anche lui Solo lui Stava parlando di lui Scusa Continuiamo a ferire Passaggi 100% Ecco perché Ragazzi Questo video è giunto al termine Siamo veramente Ormai Malandati Quindi Claudio ha vinto Non so se sarà capito E quindi Vabbè Mi invito a lasciare Come al solito Un bel like Un commento Iscriviti al canale Se non l'avete ancora fatto E guardate il link in descrizione Se volete Vedere un porno Bella Nostro